Alla fine ce l'ha fatta la commissione dell'Anica composta da critici, registi e produttori, tra cui il già premio Oscar Paolo Sorrentino, ha scelto Fuoco a Mare come film che rappresenterà l'Italia nella categoria del miglior film straniero. Una pellicola in cui TV2000 ha creduto dall'inizio, il cui cammino era iniziato colmo di promesse ma anche di incertezze al Festival di Berlino, dove Rossi venne premiato con l'Orso d'Oro emozionatissimo dalle mani del presidente di giuria Mary Strip. Questo film arriverà dritto agli Oscar, narra la leggenda che la Strip gli abbia sussurrato in un orecchio. Chissà, una cosa è certa, l'Orso d'Oro di Berlino ha segnato per il film solo la prima tappa di un lungo percorso. La statuetta che torna a Lampedusa festeggiata dagli abitanti dell'isola, la proiezione è sempre qui lo scorso mese di aprile, proprio alla vigilia della visita apostolica di Papa Francesco a Lesbo, l'uscita americana per quanto in poche sale selezionate. Fuocammare ha sbaragliato candidati illustri come perfetti sconosciuti e lo chiamavano Gigrobot e alcune chance per farcela ce l'ha. Affronta un tema caldo come quello dell'immigrazione ma da un punto di vista originale, quello degli abitanti di Lampedusa. Zia Maria, il piccolo Samuele ma soprattutto il mitico dottor Bartolo, il medico dell'isola, vero motore del film. Adesso, dopo che ogni paese avrà scelto la pellicola in gara, l'Academy formalizzerà le nomination, in generale al massimo 5 titoli, il prossimo 24 gennaio, mentre la cerimonia è prevista per domenica 26 febbraio. Sarebbe bello farcela perché, come abbiamo detto sin dall'inizio, Fuocammare non è solo un film, ma anche e soprattutto quello che rappresenta. Grazie a tutti.